Ripartono gli incontri senza censura, ripartono da dove erano finiti in primavera per una nuova edizione. Abbiamo con noi Marco Bernardi, ideatore degli incontri senza censura. Da dove partiamo Marco? Avevamo finito una stagione culturale importante, abbiamo usato tutto il tempo a nostra disposizione insieme alle persone che sono venute agli incontri e che ci hanno stimolato e da quello che abbiamo capito è che le persone, la gente, noi, tutti quanti ci troviamo di fronte a un futuro molto incerto. Da questi stimoli delle persone, da queste stimolazioni continue abbiamo prodotto insieme alla Libreria La Bassanese e all'Associazione Culturale che con noi collabora le serate un programma dove il futuro è il filo conduttore perché in realtà è proprio il futuro dove passeremo il resto della nostra vita ed è proprio lì dove metteremo le nostre nuove proposte concrete per un futuro libero, per un futuro diverso, un futuro più certo perché poi alla fine è quello che ci aspettiamo. Ci troviamo di fronte a dibattiti politici abbastanza incompetenti su molti aspetti. Quello che vogliamo dare noi è un dibattito con professionisti e specialisti per farci un'idea un po' più chiara di quello che sta succedendo. Il futuro come linea guida. È arduo chiedere come sarà questo nostro futuro? Si prospetta un qualcosa di buono o un qualcosa di negativo? Beh, questo lo scopriremo pian piano durante questo nostro percorso, questo nostro dibattito. Infatti abbiamo previsto un futuro, di parlare di un futuro dall'alimentazione a un futuro delle nostre pensioni, a un futuro dei nostri risparmi, a un futuro della ricerca medica e scientifica, a un futuro dell'acqua, delle risorse alimentari, a un futuro delle risorse energetiche. Io ho un'idea abbastanza personale che condividerò, penso con gli ospiti, che il futuro molti lo dipingono incerto, molti tentano di vendercelo, però insomma il futuro lo facciamo noi, quindi dobbiamo cominciare a lasciare alcuni dibattici e concentrarci su quello che possiamo fare. Certo, da soli facciamo poco, insieme secondo me qualcosa possiamo cambiare. Sette serate per un parterre de rua di ospiti molto importanti. Come iniziamo? Come proseguiamo? E come finiamo? Beh, iniziamo il debutto, è un debutto assolutamente originale perché sarà qui in anteprima Veneto Flavio Aurelio. Lui è diventato un attore teatrale, molti di noi lo conosceranno per le sue esperienze in Zelig, ma in realtà lui sta portando avanti una battaglia culturale che va al di là del varietà Zelig. Questa battaglia culturale è quella di spiegare le cose, scienza, religione e filosofia da un punto di vista diverso, in modo divertente ma non comico, perché la sua battaglia culturale è quella di cercare di far capire quello che tante volte i testi di storia, di scienza e di filosofia non dicono, attraverso appunto questo modo abbastanza divertente di conoscere e di approfondire determinati argomenti. Si parte dalle origini pagane dell'Europa, quindi non cristiane e passando per tutti i miti della storia, ma scopriremo delle novità assolutamente interessanti, come lui dice. Infatti proprio da questo lui ha prodotto un nuovo spettacolo che girerà nei teatri di tutta Italia, che si chiamerà appunto Sulle spalle dei giganti. Mentre termineremo come di consuetudine con un'anteprima del tour 2012 di Eugenio Benetazzo, che il titolo è Too Much, siamo troppi. Pensate che alla fine del 2012, 2011-2012, inizio 2012 saremo 7 miliardi. Cerchiamo di capire, è possibile che un sistema così capitalistico, con una crescita infinita, possa convivere in qualche modo con un nostro sistema terra, con risorse finite? Ecco, con lui un Benetazzo direi 3.0 per analizzare le risorse alimentari, energetiche, un nuovo oriente che si sta espandendo con regole assolutamente diverse. Dal loro nero al loro blu, insomma uno spettacolo finanziario che premierà sicuramente i presenti al Teatro Montegrappa. È uno spettacolo, come dicevamo in anteprima, i biglietti saranno disponibili in libreria oppure online sul sito www.labassanese.com. Passando per Sveva Sagramola, passando che dal Geo & Geo viene qui, dagli studi di Geo & Geo della RAI, viene direttamente qui agli studi al parterre di incontri senza censura. Ma devo dire che dall'ospite fisso, il ricercatore, il meteorologo ospite fisso di che tempo che fa Luca Mercalli, arriverà anche lui al parterre di incontri senza censura. Passando però anche per alcuni giornalisti specializzati sulla finanza e sul futuro previdenziale, perché molti non ci stanno dicendo la verità su cosa ci sta succedendo dal punto di vista previdenziale. Ecco perché vorremmo aprire questo dibattito. Molti ne parlano, la politica ne parla, ma pochi ci dicono in realtà che cosa sta succedendo, ma soprattutto che cosa succederà in quest'altro futuro. Passando poi per il nuovo viaggio nelle cure possibili. Quello sarà un viaggio a cui teniamo molto, a cui i partecipanti terranno molto, perché per la prima volta a Bassano apriremo un dibattito sulle cellule staminali, che molto si stanno confrontando tra la parte laica e la parte religiosa, ma soprattutto è davvero la panacea di tutte le malattie. E questi viaggi della speranza, siamo certi che poi di speranza si tratti davvero. Ecco, finiamo il nostro, diciamo, viaggio nella cure possibili, invitando uno dei maggiori oncologi appunto di fama mondiale, che è il professor Lucio Luzzatto, che per 30 anni è stato all'estero, dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti alla Nigeria e adesso appunto è il direttore scientifico di uno degli istituti tumorali più importanti d'Italia. Lo avremo qui, insomma, per cercare di capire dove la scienza arriverà.